Questo video riguarda i migliori tre pantaloncini Muay Thai. Il vincitore della qualità è il pantalone Muay Thai. I nuovi pantaloni Muay Thai Buddha Retro Inca sono realizzati in satenne prima qualità con un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Particolarmente consigliati per Muay Thai, kickboxing, K1 e tutti gli sport di contatto, sia per allenamenti che per combattimento. Taglio tradizionale Thailand S, EMSSS o scegliere una taglia MS. Vita larga l'estetica e le aperture speciali sui lati per una migliore libertà di movimento, ideali sia per l'allenamento che per la competici numero. Design stente e durevole, con cuciture rinforzate, logo e dettagli di prima qualità. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è i flori pantaloncini. Comprati per gli allenamenti di Muay Thai e sono davvero molto comodi e molto elastici. La texture in rilevanza è molto bella. Il vincitore del premio è il Leone 1947. Eleganti e dal tempo stesso inconfondibili nella loro linea moderna ed essenziale. Questi pantaloncini da combattimento sono stati disegnati personalmente dal fuoriclasse Giorgio Petrosian per completare una esclusiva linea fighting a lui dedicata. Realizzati interamente in Thailandia con i migliori materiali e con la più grande cura artigianale, presentano sul lato sinistro uno scudetto ricamato con la firma del leggendario campione, da sempre prestigioso ambasciatore dei prodotti Leone nel mondo. La resistente cintura elastica in vita ed i profondi spacchi laterali permettono la più ampia libertà di movimento anche nelle fasi più intense di allenamento o in competizione. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.